Il corpo si libra in un tionfo di pacata serenità sopra il quotidiano. La donna apre le braccia come ad accogliere e ad abbracciare un tutto che unisce l'universale e l'intimo. Lei è un brand consolidato dell'arte contemporanea Marina Abramovic qui in uno dei video del ciclo The Kitchen Homage to Saint Erez e il luogo è la sala sottofedericiana della biblioteca ambrosiana di Milano dove è allestita la mostra Estasi, un momento nel quale si congiungono in una convergenza inattesa, una tappa particolare della carriera dell'Abramovic, oggettivamente lontana dalla grandezza aspra delle sue più importanti performance e una riflessione sulla storia del cattolicesimo all'interno di uno spazio contiguo alla cripta di Sansepolis. Simbolo e luogo religiosamente rilevante. Marina, il corpo, il teschio, le mani, i film documentano una performance realizzata nel 2009 a Gihon, tecnicamente perfetta e motivamente adeguata alla figura canonizzata di Teresa Davila e al contesto della mostra. Resta il dubbio che l'Abramovic abbia lasciato una traccia nella storia dell'arte per altri lavori che la problematicità disturbante o il dolore siano stati elementi decisivi per la sua rilevanza. Certo, l'estasi è comunque il culmine di un damma umano e teologico, ma parlando di quello spazio aperto e anche conflittuale che chiamiamo contemporaneo, si avverte la sensazione di essere un po' distanti dal cuore pulsante attuale della ricerca, pur con in cartellone il grande nome dell'artista serba.